Come va? Tutto posto? Oggi siamo qui per fare l'unboxing Vai, apri l'unboxing, aspetta Unboxing ultra veloce questo, eh, guardate qua Abbiamo avuto un pacco pazzesco Guarda cosa c'è dentro, aspetta un attimo, si vede, si, si vede Guarda che cosa c'è dentro Dio, le gole ad or Cazzo, le gole ad or Le gole ad or Le gole ad or Le gole ad or